È un Paese più pronto. Noi non sappiamo cosa avverrà nei prossimi mesi. Alcuni scienziati parlano dell'ipotesi di una seconda ondata. Dobbiamo essere pronti. Lavoreremo da domani mattina con le regioni per rendere più forti e più vigorosi i nostri ospedali, le nostre strutture sanitarie. Lo faremo chiaramente continuando ad investire sul personale. Mettiamo in campo altri 240 milioni per nuove assunzioni. Finora ce ne sono state già 23 mila dall'inizio di questa crisi. Mettiamo in campo altri 240 milioni di euro per continuare ad assumere e 190 milioni di euro per incentivi ai nostri medici, ai nostri infermieri e a tutto il nostro personale sanitario.